Dal 1 gennaio sarà obbligatoria la fatturazione elettronica, ossia la produzione, la trasmissione e la conservazione delle fatture attraverso un sistema digitale, abbandonando così la carta e tutti i costi a essa annessi, anche se sarà ugualmente possibile richiedere una copia cartacea della fattura elettronica originale. È quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell'economia Giovanni Tria. Le fatture saranno originate per via elettronica per poi essere firmate digitalmente, conservate ai fini fiscali secondo precise regole e trasmesse attraverso il sistema di interscambio predisposto dall'Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica non è una novità, dal momento che già dal 2014 chi fattura alla pubblica amministrazione come regioni e comuni lo deve fare in formato elettronico. Da domani sarà invece obbligatoria per tutte le fatture emesse verso aziende e privati. Una soluzione pensata per combattere l'evasione fiscale e la complessità del sistema contabile nazionale. È fondamentale dotarsi di un software di fatturazione in formato XML, che è l'unico formato consentito per poter emettere fatture elettroniche. Ci si può appoggiare al programma gratuito scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate o ad un programma di gestione contabile o di fatturazione presenti in commercio. I soggetti che hanno l'obbligo di adempire alla normativa, ossia i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, devono essere in possesso di un codice identificativo denominato codice onivoco, che permette l'identificazione. I soggetti esentati dall'obbligo di fatturazione elettronica saranno coloro che avranno aderito al regime forfettario o al regime degli ex minimi, o comunque quei soggetti che hanno un ammontare di ricavi inferiore a 50.000 euro l'anno. Per chi avesse delle difficoltà, sarà possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali per l'emissione e conservazione delle fatture elettroniche.